Grazie a tutti Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Credo negli esseri umani Che hanno coraggio, coraggio di esseri umani Esseri umani Benvenuti ad una nuova puntata di Bianco e Nero Oggi sono molto contenta di avere ospite ancora una volta una donna Il maresciallo Francesca Bocchino Salve maresciallo Buonasera Di cominciare l'intervista ho chiesto se si diceva maresciallo o marescialla Lei mi ha detto maresciallo al maschile Allora, ci diamo del tuo o del lei? Perché insomma siamo donne, abbiamo più o meno la stessa età Se per lei non è un problema Abbandoniamo questa distanza e ci diamo del tuo No, io sono poco inclina ai formalismi da questo punto di vista Quindi preferisco e gradirei il tuo E allora Francesca, come nasce prima di tutto la tua carriera All'interno dell'arma dei carabiniere E quanto è stato difficile da donna? Allora, la carriera militare mi ha sempre affascinata Sono figlia di un ufficiale di complemento dell'esercito Quindi in un modo o nell'altro sono la prima figlia Per definizione di mio padre, il primo figlio maschio E quindi ho sposato quelli che erano i suoi valori, i suoi interessi Questo spirito di appartenenza, il servire comunque la patria Quindi diciamo che sono cresciuta con questo ideale Quando poi ho avuto la possibilità di scegliere gli studi Quindi comunque li ho incanalati verso questa carriera Ho studiato giurisprudenza E poi ho iniziato a fare i concorsi come maresciallo Perché era quello che volevo fare Il maresciallo dei carabinieri Quindi avevi proprio questo sogno? Sì, sì, era questo Volevo fare il maresciallo Lo vedevo come l'unico ruolo Che poteva comunque essere sempre vicino al cittadino Poter dare un aiuto concreto Sempre il comandante della stazione Ecco, questa era la mia aspirazione Questo era il mio sogno Ed è bello che poi i sogni diventano realtà Quanto è difficile per una donna lavorare in un ambiente che è comunque molto maschile? Beh, come tutti gli ambienti lavorativi sicuramente ci sono delle difficoltà in più Però devo dire anche questo Che comunque l'arma dei carabinieri ha visto entrare da poco le donne Quale anno precisamente? Dal 2000 Dal 2000, quindi sono relativamente 20 anni che siamo a contatto con i nostri colleghi uomini Certo, gli inizi sono stati un po' difficoltosi Come ogni volta che si accingono ad iniziare un nuovo percorso Però ho lavorato tanto Ho lavorato sempre a testa bassa E quindi è stato poi il mio lavoro ad essere il mio biglietto da visita E quindi pochi facevano più attenzione al fatto che dietro la mia sigla si ce l'asse il nome di una donna E non quello di un uomo Quanto influenza la vita privata a fare questo lavoro? Che comunque è molto molto impegnativa Impegnativo in particolare poi per quello di cui ti occupi tu Di cui parleremo dopo Beh, sicuramente non è facile stare accanto a chi fa il mio lavoro E il modo in cui lo faccio io Anche perché in un certo senso noi scegliamo la nostra vita Quindi mettiamo in conto tante cose Sacrifici, cambi di orari Vacanze che saltano Programmi improvvisi Quindi insomma noi lo accettiamo e lo sposiamo Chi invece ci vive spesso lo subisce Quindi non è sempre facile E per me che ho un figlio sicuramente credo che chi ne abbia sofferto di più sia stato lui Quando comunque mi sono arruolata lui andava ancora a scuola È stato un momento di cambiamento importante Siamo passati dall'essere simbiotici a non poterci più vivere tutti i giorni Quindi è stato difficile Però ad oggi lo sento parlare con orgoglio del lavoro che faccio Con orgoglio anche del dolore che ha provato Però è servito ad essere quella che sono io oggi e anche quello che è lui Come si chiama tuo figlio? Quanti anni ha? Luigi e ne ha 23 Ah, quindi è molto grande Ormai è un uomo a tutti gli effetti Sì, sì, sì E quindi è orgoglioso della sua mamma? Adesso sì Però in quel momento? No, in quel momento ovviamente lui ha sentito solo l'abbandono Quindi per lui c'era la mamma che stava andando via Poi dopo con gli anni ha capito insomma che la mamma stava andando via Non solo per realizzare un sogno ma per dare la possibilità anche a lui Di essere fiero del lavoro che svolgeva la mamma Cosa ami di più del tuo lavoro? Anche se immagino in parte già mi hai risposto prima Poter essere d'aiuto Poter essere d'aiuto per qualunque problema una persona possa avere Io mi onoro di indossare la divisa di un'istituzione che è accanto e al servizio del cittadino da più di 200 anni Io ho sempre visto le persone che entravano in caserma come quelle persone che venivano perché ti riconoscevano un potere Che era quello di poterli aiutare appunto E quindi questo sicuramente il grazie delle persone Sia quando riuscivi a fargli ottenere il duplicato della carta di identità che avevano perso E sia quando riesci comunque ad arrestare una delle persone su cui facciamo indagini di un altro tipo di livello e di genere Qua siamo nella sala audizione del comando provinciale di Avellino dove vengono ascoltate le donne vittime di violenza Ci sono varie sale C'è anche qui a fianco la sala di attesa dove le mamme C'è una sala giochi per bambini C'è una sala più grande Ci sono divani Un ambiente molto accogliente Molto familiare La scelta è chiaramente studiata ed è voluta Questa è una delle sale audizioni che sono presenti in quasi 100 caserme dell'arma dei carabinieri Che sono state promosse all'interno di un progetto che si chiama Una stanza tutta per sé Qui al provinciale di Avellino è stata sostenuta non dal Soroptimist ma da altre istituzioni che hanno deciso comunque di finanziare Come potete vedere sono ambienti neutri Sono dedicati esclusivamente alle donne vittime di violenza O comunque a quelle donne che in un modo o nell'altro si trovano in una situazione di particolare vulnerabilità C'è una sala d'attesa dove c'è anche una sala giochi per quanto riguarda i bambini E poi la sala dove è possibile procedere con gli incidenti probatori Quindi dove c'è il maxischermo e la sala per i magistrati e per gli avvocati Quando ci troviamo comunque ad essere sede di incidenti probatori Di che cosa ha bisogno in particolare una donna che viene qui, si siede, parla con te e ti racconta la sua storia? Di supporto, di sentirsi capita, di sentirsi compresa e soprattutto di sentirsi creduta Perché la problematica più grande che troviamo noi operatori del settore è proprio questa Cercare di far comprendere alle donne il loro essere vittime in determinate situazioni Per cui abbiamo delle donne che quando giungono in caserma hanno già consapevolezza del loro status di vittima E quindi hanno già un percorso ben preciso in mente rispetto a quello che vogliono fare nel prosieguo Mentre invece una categoria sicuramente più a rischio è quella delle donne che ancora non accettano il fatto di essere vittime Che ancora giustificano i comportamenti del compagno, del marito Si sentono in colpa in alcuni casi Si, si, addirittura si sentono in colpa anche perché soprattutto adesso sulla scorta della nuova normativa I tempi sono molto più brevi per l'emissione delle misure precautelari Quindi abbiamo praticamente delle donne che successivamente agli arresti Dopodiché ritrattano in maniera pericolosissima ma non tanto per l'istituzione ma per loro stesse voglio dire Però sono situazioni che noi abbiamo imparato a gestire Quindi è questo il motivo per cui l'Arma dei Carabinieri spende molto tempo e molto impegno Soprattutto per la formazione del personale e le opere di sensibilizzazione Soprattutto per quanto riguarda i giovani e le scuole Molto importante quello che ci stai raccontando Ci racconti una storia particolare che ti ha particolarmente colpito? Anche prima a microfoni spenti mi hai detto poi le minacce purtroppo sono continue Una storia che proprio ti è rimasta dentro? Io mi occupo prevalentemente di reati contro le donne e contro i minorenni Quindi già di per sé ogni storia porta con sé un carico di dolore Ogni storia ti dà dal punto di vista umano, di esperienza, dal punto di vista professionale Ma ti toglie, ti toglie anche tanto perché hai sempre il timore di non riuscire a fare in tempo Ecco, questa è un po' sempre la mia sensazione Di non riuscire a fare tutto come lo vorrei fare e nel tempo in cui lo vorrei fare Quindi ogni storia per me è un colpo al cuore ed è una piccola ferita che ti porti Anche quando poi hai la soddisfazione di vedere condanne esemplari Sicuramente c'è un circolo di prostituzione minorile Sgominato qui in provincia di Avellino E poi soprattutto il caso di due bambine Che erano affette comunque da un handicap grave E che venivano comunque abusate dal punto di vista sessuale Da persone che facevano parte sia dell'entourage familiare che extra familiare Ecco, vedere delle bambine talmente indifese Ecco, riuscire a salvarle da quel circuito è stato per me una grandissima soddisfazione Prima come donna e poi come maresciolo dei carabinieri Gli uomini maltrattanti Ci sono alcuni uomini che decino di intraprendere anche un cammino di rinascita Per migliorare, per uscire da questa situazione di violenza che le avvolge E altri che invece non si rendono neanche conto Probabilmente fino in fondo di quello che fanno Beh, dipende appunto dal tipo di violenza Sono comunque previsti anche dei percorsi di recupero per gli uomini maltrattanti Ovviamente partiamo dallo stesso discorso che abbiamo fatto con le vittime Cioè ammettere di avere un problema e impegnarsi comunque per risolverlo È un qualcosa che comunque lo Stato cerca di sollecitare Purtroppo per la mia esperienza io non ho avuto casi di questo genere Anzi, proprio perché comunque rappresenti nell'ottica del maltrattante Con lei che in un modo o nell'altro è stata capace di far cadere il castello di violenza Che loro avevano posto in essere Spesso poi sono diventata anche io oggetto di minacce In Irpinia com'è la situazione delle donne vittime di violenza? Il numero rispetto ai dati italiani in calo è uguale? Che trend c'è? Per quanto riguarda i dati dei reati di genere Quindi parliamo di maltrattamenti in famiglia Atti persecutori e violenza sessuale Il dato che abbiamo riportato nel 2019 è abbastanza in linea rispetto a quello del 2018 Diciamo che abbiamo un aumento delle denunce Che però non vogliamo leggere necessariamente in un'ottica negativa Nel senso che l'aumento delle denunce Non significa necessariamente che ci sia un aumento dei reati Bensì che ci sia un aumento invece della comprensione dello strumento repressivo Quindi significa che le donne si affacciano con più fiducia alle istituzioni Altro dato importante Spesso c'è un dato che viene sottolineato Cioè che è quello che le donne non hanno un'indipendenza economica Tale che le permetta di uscire dalla famiglia e dalla dipendenza dal marito Questa è una delle cause Quali sono le altre cause secondo te? Il problema è di natura culturale Perché abbiamo avuto, abbiamo gestito situazioni Dove comunque le donne che erano vittime di mariti maltrattanti Erano comunque delle professioniste Quindi persone che avevano studiato O persone che avevano anche un'indipendenza economica Il problema è culturale perché purtroppo Ed è brutto doverlo dire nel 2020 Molte donne sono ancora convinte che determinate dinamiche Come per esempio la violenza Di qualunque tipo possa essere Quindi fisica, psicologica, sessuale, economica Rappresenti ancora un buon dovere dell'essere una buona moglie E quindi la nostra difficoltà è proprio quella Quando ti dicevo prima che La difficoltà è quella di far comprendere alle donne Che in determinate situazioni si è vittime Nasce proprio da questo E spesso le vittime sono anche i figli Anche il dato dei figli che rimangono orfani In alcuni casi Oppure figli di donne che vengono uccise È un notevole aumento Poi ci si chiede chi si prende cura di questi figli Quindi questo è un altro tema molto delicato Sì, infatti lo Stato comunque sta promuovendo Dei progetti proprio per le vittime Dei femminicidi Che sono proprio i figli che restano Anche perché spesso noi abbiamo casi In cui vengono non solo uccise le donne Ma poi si suicida anche l'omicida Quindi questo significa che questi bambini Quando non hanno un supporto familiare Devono necessariamente entrare Nel circuito delle case famiglia E dei percorsi di adottabilità Che proprio in quanto orfani E quindi anche la problematica di natura economica Per quanto riguarda l'eredità E tutto quello che ne deriva È diventata una problematica talmente importante Che lo Stato italiano sta cercando comunque Di predisporre dei programmi attuativi Di progetti a supporto Proprio per le vittime del femminicidio Però queste sale sono molto importanti Lo ricordiamo, lo ribadiamo un'altra volta Insomma se ci sono donne in difficoltà Vengono qui alla caserma dei carabinieri Del comando provinciale di Avellino Non saranno ascoltate Dove vengono ascoltati tutti per le denunce normali Ma sono messe in un ambiente confortevole Con una donna Perché in questo caso è importante Che una donna incontri una donna Faccia la denuncia con una donna È una questione di sensibilità Infatti la normativa non prevede Per quanto riguarda gli ufficiali di polizia giudiziaria Che raccolgano querele di questo genere Che debbano essere necessariamente donne È una questione di sensibilità Anche perché spesso succede Per esempio In alcune circostanze Ci sono state delle minori Che per esempio venivano avviate Alle prostituzioni dalla madre In questo caso non hanno voluto parlare Con personale di natura Con personale femminile No perché loro le identificavano Comunque con il proprio aguzzino Quindi è una questione di sensibilità E di preparazione Allora ci avviamo alla conclusione Francesca Visto che noi siamo una televisione sportiva Ti faccio una domanda Se sei sportiva Se fai sport Se tipi per qualche squadra Oppure un mondo lontano da te Allora sono stata una sportiva Diciamo che la mia vita Dal punto di vista sportivo Io la divido nel prima E dopo l'arruolamento Quindi prima dell'arruolamento Ne ho fatto tanto E diverso Cosa in particolare? Allora sono diplomata in danza Allo IALS a Roma E i miei genitori hanno gestito Per tanti anni una palestra E quindi comunque Ero un'istruttrice di aerobica Step and slide Dopodiché la mia vita sportiva Si è interrotta Si è fermata E adesso praticamente Solo un po' di jogging Quando riesco ad avere tempo E forse soprattutto Ma ti manca un po' Quello che facevi prima? Sì questo mi manca Mi manca tanto Ma adesso il tempo è davvero poco E quello che mi resta Preferisco passarlo a casa Con la mia famiglia L'ultima domanda è Marzulliana Cioè i sogni Gli obiettivi Per il tuo futuro Da donna E da maresciallo Una famiglia felice Un figlio sereno E la possibilità Di continuare a fare Quello che faccio Con l'impegno di oggi E ancora di più Grazie Buon lavoro a te In bocca al lupo Grazie Grazie a te invece Grazie Allora grazie al colonnello Cagnazzo Del comando provinciale Di Carabinieri di Avelino Grazie a te Maresciallo Francesca Bocchino Ci vediamo Alla prossima puntata Di Bianco e Nero Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata Alla prossima puntata